DIVISI 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 Cavolo, guarda lì! Eh? Le tutette sono cresciute. Fammi controllare. Non è che sei incinta? Non sono incinta. Va a pisciare su questo testo. No! Oh, cazzo. Me lo sono scopato. Quello del burro. Sì. Oh, merda. Cosa c'è che non va? Ma come sei mesi? Sei a mezzo, dicono. E perché non scalcia? Qualcosa non va? No, è in ottima salute. Pensa di poter starsene in agguato come un piccolo ninja per poi venirse fuori quando cazzo pare a lui. Che brutti disegni. E chi è il padre? Minchia santa. Minchia santa? E quello sarebbe mio padre? Tu hai fatto sesso con un tipo del genere. E comunque sei stata tua a insistere perché... Perché venissi dentro. Posso venire nella macchina del caffè, se vuoi. Basta che dici, vieni nella macchina del caffè e io, boom, la riempio. Quindi lo darei via? Allora anch'io non voglio più vederti. So che sei incinta, ma non è la prima cosa a cui penso quando ti vedo. La prima cosa che penso è... Cazzo, è stupenda. Saresti una madre fantastica. Ma io non ho nessun desiderio di maternità. Tu che sceglieresti? Se potessi decidere. Angelina Jolie. Angelina Jolie? Se ha sei figli vuol dire che è una buona madre. E poi è piena di... E poi!